Per vincere la guerra non bastano alcune battaglie, alcune battaglie sono state vinte ma c'è ancora una guerra da vincere qui, qui ancora c'è un'emergenza sicurezza in atto. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Pettinari, è tornato a denunciare presunte illegalità tra le case popolari di Via Rigopiano, a due passi dall'ospedale civile di Pescara. La visita del pentastellato è a seguito di un blitz delle forze dell'ordine che alcuni giorni fa in un appartamento hanno trovato oltre 400 grammi di cocaina, che al dettaglio avrebbero fruttato circa 50.000 euro. Pettinari chiede la revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare a chi delinque e lo sfratto degli inquilini abusivi. Poi mi si dice a me che io chiedo di togliere gli alloggi, mi si contesta dicendo e poi dove li mandi in mezzo alla strada. Secondo voi mandiamo in mezzo alla strada persone che hanno 57.000 euro di valore all'interno di un alloggio popolare e quando va bene poi pagare 15, 20, 30 euro al mese di affitto. Quelle persone devono andare fuori dagli alloggi pubblici, quindi chiedo lo sfratto immediato. L'assegnazione delle case popolari è regolata da una legge regionale, la 9696, in base alla quale si verificherebbe chi sfrattare e chi no. Una legge che, dice il consigliere regionale, non è applicata. La legge esiste, una legge regionale deve essere applicata dalle amministrazioni comunali, perché poi in capo alle amministrazioni comunali ci sono le competenze per verificare tutti i requisiti e qualora i cittadini non hanno i requisiti o sono abusivi o hanno perso comunque i requisiti, devono essere fatti oggetto di provvedimento di decadenza. La legge c'è, io chiedo di applicarla da anni, purtroppo mi sto sgolando in mezzo alla strada, non sono io nel Presidente della Regione, nel Sindaco di Pescara. Io ho perso le lezioni. A ciò si aggiunge la sporcizia tra i palazzi fatiscenti. Eventi appartamenti intanto sono ancora vuoti, le finestre murate, mentre la lista d'attesa per ottenere un tetto sulla testa scorre a rilento. Grazie. 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 Grazie.